Ben trovati, una democrazia è matura quando vi è un confronto tra le coalizioni, quella che governa e quella che fa opposizione. Una democrazia è matura quando vi è un confronto civile all'interno degli stessi partiti tra una maggioranza e una minoranza. Una democrazia non è matura quando il confronto tra coalizioni è rappresentato dalle offese, una democrazia non è matura quando il confronto all'interno dei partiti è rappresentato da ultra che iniziano ad offendersi reciprocamente. Ecco, noi viviamo ormai da vent'anni, ventun'anni una seconda repubblica in cui e dalla quale si evidenzia l'immaturità della nostra democrazia perché abbiamo avuto per quasi vent'anni un confronto tra una coalizione e l'altra a suon di insulti per la non condivisione di un leader, Silvio Berlusconi, discutibile per alcuni aspetti, ma non vi è stato lo scontro-confronto dialettico basato su tematiche e su progetti, ma sugli errori personali, sulle debolezze personali di Silvio Berlusconi. Tutto parte da lì, così come all'interno di Forza Italia inizia un confronto che non è basato soltanto sulla visione di una gestione di partito o una visione su una linea politica differente, inizia a prendere piede l'offesa reciproca. Io credo, da questo punto di vista, che i leader dovrebbero essere esempio dei propri riferimenti sui territori, sia da una parte Berlusconi, sia dall'altra Raffaele Fitto, i quali si scontrano civilmente con visioni della politica o dell'attuale linea politica all'interno di Forza Italia, una visione diversa rispetto a quella che invece è stata, come dire, monocorda fino a un anno fa circa. Ma per quale motivo il confronto, la visione? Ho fatto un appello all'ex ministro Fitto che per andare oltre dovrebbe ufficialmente candidarsi come leader del centrodestra per confrontarsi nelle urne con Salvini, Lameloni e chiunque altro del centrodestra voglia rappresentare il post Berlusconi alla eventuale futura presidenza del Consiglio. Ma io ritengo che la battaglia sia di Fitto che anche, come dire, la rigidità di Silvio Berlusconi possano essere accettate o meno, ma non possono assolutamente assecondarsi comportamenti sia da una parte che dall'altra dei propri riferimenti sul territorio e in Italia che vadano oltre il decente confronto politico. Io temo che in questo momento in cui si va verso le elezioni regionali ci possa essere la briglia sciolta di qualcuno che, offendendo gli uni o gli altri, pensa di rappresentare la politica, anzi, pensa maggiormente di essere il miglior scodinzolatore possibile della corte di Silvio Berlusconi o della corte di Raffaele Fitto. Bisogna stigmatizzare e riportare al dibattito condivisibile o meno, nell'uno e dell'altro, ma dibattito politico, senza offendere. Altrimenti si continua a vivere in una democrazia immatura e questa agevola gli scodinzolatori inutili di turno e di torno a questi signori che invece vogliono rappresentare una visione differente dell'impegno in politica e nel sociale. A domani.